Salve nuovo impiegato del Fredbear's Family Dinner e benvenuto al filmato di addestramento per l'assemblaggio delle mascotte. Ci sono due tipi di costume, Fredbear e Bonnie il coniglio. Queste tute sono indossabili sia da animatronics e sia da attori professionisti, infatti le tute anche se diverse sono economiche e intrattengono allo stesso modo. I costumi per gli attori vengono usati quando un'animatronic è in riparazione. Grazie per la visione! La tuta è fatta da tre strati. Il primo è un costume fatto in tessuto. Il secondo è costituito da un materiale in fibra di vetro che forma la struttura del personaggio. Il terzo è un esoscheletro. Questo strato è molto vicino al tuo corpo e ti aiuterà a sostenere tutto il peso degli altri componenti e come caratteristica principale trattiene tutte le molle a scatto. Le molle a scatto sono dei componenti che trattengono le altre molle utilizzate per attaccarsi all'animatronic. Comunque queste molle a scatto possono essere davvero pericolose se la tuta non è ben preparata. Adesso iniziamo con l'allenamento. Per preparare la tuta in modalità costume inizieremo ad avvitare tutte le molle a scatto con una manovella. Si inserisce la manovella nei fori situati dietro l'animatronic. Ci sono dieci fori in totale, due su ciascun arto, uno sul retro del corpo e uno dietro la testa. Successivamente rimuovi i guanti e i piedi. Dopodiché dovrei rimuovere la testa prima di toglierti il costume. Poi rimuovi anche lo strato in fibra di vetro. Poi togli il costume. Una volta rimosso devi rimuovere il secondo strato e infine rimuovere l'esoscheletro dall'animatronic. Successivamente dovrai iniziare a indossare la tuta. per poi rivestirla con il secondo strato in fibra di vetro e infine rivestirla con lo strato in tessuto. Una volta fatto mettiti i guanti e i piedi. Infine dovrai indossare la testa ma prima dovrai impostare la maschera in modalità esecutore avvolgendo una presa all'interno della testa per rivelare gli occhi tinti. In caso ci sia un guasto delle molle a scatto, non panicare, non muoverti, chiama aiuto, respira lentamente, chiedi a un collaboratore di ricaricare le molle a scatto. Infine togliti la tuta in modo calmo e delicato. Ciao a tutti e benvenuti al Fredbear's Family Dinner! Competizione 有 Se per te non è un problema mi faresti un favore, daresti un'occhiata agli animatronic. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.